Le unità complesse guidate da primari, personale medico e paramedico in corsia, solo così il Santimoteo potrà tornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini del Basso Molise a trarre pazienti da fuori regione. Lo chiede a gran voce il comitato che ormai da anni lotta per difendere il presidio termolese. Prima cosa tutti i reparti, le unità operative complesse presente nel Santimoteo devono essere tutte coperte con nuovi concorsi da primari. Oltre a questi parallelamente si dovranno fare anche concorsi per i medici, tecnici di laboratorio, infermieri e ossa. Con quale personale riempire le corsie? Per il presidente del comitato Santimoteo, da quando l'ASREM ha bandito concorsi a tempo indeterminato, le risposte ci sono state anche perché spiega Termo Ligode di una posizione geografica invidiabile. Si è dimostrato ultimamente da quando l'ASREM ha fatto concorsi a tempi indeterminati, la risposta è stata positiva. Finora i concorsi indetti e le forme di assunzione del personale sanitario è stato a tempo determinato, di mesi, eccetera, quindi nessuno risponde. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Felice spiega che le tante proposte avanzate sono state inascoltate da tutti, a prescindere dal colore politico dei governi, a tutti i livelli che si sono avvicendati. Altra richiesta fondamentale è quella di un decreto molise, solo così, ha spiegato il presidente del comitato, si può rilanciare la sanità molisana. Riteniamo che la partita debba essere giocata dai sindaci ed è per questo che avevamo chiesto e chiediamo ancora che i sindaci della conferenza, potrebbe essere il direttivo dei sindaci della conferenza dei sindaci, chiede tramite la prefettura un incontro urgente con il Presidente del Consiglio Draghi, che essendo una persona pragmatica e nel vedere le problematiche del Molise, che sono di molto inferiore a quelle della Calabria, non vedo per quale motivo non possano risolvere il problema e quindi dare un decreto molise simile a quella della Calabria. Infine l'idea, solo rallentata dalla pandemia, di staccarsi da una regione, il Molise, che evidentemente non riesce a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Comuni del Basso Molise pronti a congiungersi con l'Abruzzo, vasto, san salvo, per formare una nuova provincia. Ma sarà in corso di Costituzione un comitato ad hoc proprio con l'unico obiettivo quello di pensare a riaggregare secondo legge che noi diciamo che, attenzione, è un'operazione fattibile perché non chiede una modifica, una legge costituzionale. Ma è già prevista la Costituzione, basterebbe soltanto come un'iniziativa popolare chiedere il referendum ad ogni singolo comune e vedere il risultato, purché ci sia continuità territoriale omogenea.